Mister Nello Desiano, sembrava tutto fatto, stando ai rumors, candidato principale alla panchina del Real Forio, ma c'è stato un rifiuto, come mai? Essere accostato al Forio è sempre un onore, c'è stato un contatto, abbiamo parlato, un rifiuto costato molto caro, perché purtroppo non sono stato accontentato sul mercato, praticamente, mettiamolo sotto questo aspetto. Io avevo fatto quattro nomi che erano già impegnati, non sono stati potuti mettere in rosa, quindi ho preferito declinare l'invito. Che dettagli ti sei fatto di questa situazione? È vero che oggettivamente per qualsiasi allenatore che dovrà subentrare sarà una vera e propria patata bollente? Ci sono dei ragazzi che vogliono essere seduti, però io penso che la società, magari accontentandoli e impegnandosi, possa cercare di rimediare la situazione e di finire il campionato degnitosamente. Ovviamente cercando di mantenere questo gruppo a partire da Trofa e Savio, perché se noi perdiamo Trofa e Savio vuol dire che non possiamo andare avanti. Ecco, mister, come allenatore, quindi anche dal punto di vista personale c'è un po' di rammarico, no? Perché era un'occasione anche per ritornare in panchina ed era sempre una panchina di eccellenza. Però è evidente che le motivazioni comunque erano importanti, perché nonostante tutto è rifiutato dal futuro, che cosa ti aspetti proprio dal punto di vista personale? Le mie motivazioni erano tantissime, purtroppo io ho parlato con quasi tutti i giocatori, c'è una situazione psicologica e motivazionale molto molto bassa.